Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Tecnedire Monitor Italia di oggi, venerdì 8 novembre 2024. Il borsino dei partiti a stensioni incerti 49,2%, mentre Fratelli d'Italia cresce dello 02 al 29,6%, Partito Democratico scende dello 02 al 23,1%, Forza Italia cresce dello 01 all'11,3%, il Movimento 5 Stelle cresce dello 01 al 10,6%, la Lega cresce dello 02 all'8,4%, Verdi e Sinistra scendono dello 02 al 6,2%, Azione scende dello 01 al 2,6%, Italia Viva cresce dello 01 al 2,3%, più Europa guadagna lo 01 all'1,9%, altri partiti 4%. Grazie a tutti e arrivederci a presto.